Bella ragazzi, sono Kavigoku e quest'oggi abbiamo due novità veramente esaltanti intanto andiamo a prendere qualunque cosa sia qui capelli stile Bardak come vedete siamo veramente giunti al culmine di questa modalità che ora vi farò vedere come si conclude ma la novità più importante ragazzi non è questa la novità più importante è che il video che state vedendo sicuramente l'avete notato ma per chi non l'avesse notato può benissimo switchare con il tasto in basso a destra su 1080p perché è bene sì questo video è in 1080p ragazzi è fatto con una HDPVR Gaming Edition è il primo e ho voluto dedicarvelo proprio perché era il video conclusivo mi sembrava corretto farvi vedere il video finale in HD e quindi eccoci qua con la modalità eroe che si sta per concludere andiamo a vedere come si conclude si concluderà vediamo eccolo qua al Tempio del Supremo o come è definito qui al Tempio di Dio e eccoci qua lo vedete là in alto non so se si vede insomma come vedete è il drago di Dragon Ball GT quello diciamo malvagio quello rosso quello tutto strano eccoci qui siamo pronti finalmente con l'HD PVR siamo su un super full HD devo dire che non ci è voluto molto l'installazione cioè non ci è voluto molto a mettere insieme tutto e è abbastanza facile l'unica cosa strana è che non so se si cioè si vede in 1080 però è un po' sgranato dopo devo regolare le impostazioni perché vabbè finché le Dragon Ball non è che la cosa mi cambi la vita però ma sai su 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 call magari orco su call magari mi interessa un po' di più avere una un 1080 sai no più che 1080 ecco non mi interessa avere la mi interessa orco mi interessa avere il come si chiama forse era meglio non farsi beccare oh quant'è salita la mia vita dall'ultima volta avere il dettaglio più che altro il resto non è che mi interessa particolarmente però il dettaglio di di call mi interessa sì quello allora quando è che cari fa questo quant'è vita 8 miliardi come vedete siamo sono scemo a parte quello vabbè per il resto dovrebbe andare tutto abbastanza bene ok c'è un macello di vita non vuole crepare io ho aumentato molto la mia vita non so se vi ricordate ma era salito di grado il mio personaggio ero arrivato al limite e dopo che è salito di grado abbiamo guadagnato oh cos'è tipo 10 mila di vita cioè non poco ora creperai oh eccolo qua cosa bisogna fare qualcuno lo sa io non me lo ricordo più aiuto dannazione si mette male vediamo cosa fa non me lo ricordo assolutamente c'è il rischio che io perda questa prima volta ce l'ho fatta perché vi giuro che non mi ricordo cosa devo fare proprio cioè non ne ho più controllato l'energia che ti vedi super o shinon cosa fai? no un'altra volta no eh orca ci ho preso eh in pieno proprio eh pensavo fosse una serie di caschi vediamo se riusciamo a scannarlo questa volta boom perfetto bella lì lo schiva e colpisci dai perfetto adesso cosa mi tocca? eh adesso ci sarà ancora la battaglia da lontano mi sa e questo che è? oh che è? che è? che è? che è? che è? cosa devo fare? cosa devo fare? cosa devo fare? ditemi cosa devo fare aiuto qualcuno me lo può dire una selezione di taschi velocissima questa ragazzi ah vedi chi gli chiede per favore fermami e allora chi fermerò eccoci quanto siamo belli ah questo è è vero però poi eh mi ricordavo bisogna dargli solo due pugni e poi andarsene eh eh vedi non me lo ricordo se non te lo ricordi come si batte non è facile eh eh ciao questa voi sapete come si ferma chi lo sa no ho perso perfetto ci riproviamo tanto è la scena finale e non me lo ricordavo scusate ma veramente è stata ci ho messo cos'è ottobre novembre dicembre due mesi praticamente a rifarlo e quindi non è facile ricordarsi cosa bisogna fare ma lo sappiamo ora lo sappiamo e ora lo scagniamo sì queste cose finché non no vabbè non sempre però se non le hai già fatte di recente cioè non arrivi mai pronto perché devi schiacciare una volta fare la selezione veloce una volta sai che ti devi spostare a destra e non a sinistra una volta sai che c'è il limite della zona cioè non è mai non è mai sempre scontato quello che devi fare quindi è ovvio che poi non sai cosa devi fare togliamo vita a sto scemo perfetto novecento no novecento via altri novecento che se ne vanno quasi millequaranta sei cento venti ora forse ci sto anche mettendo meno novecento così dovrebbe essere più veloce e allora siamo già arrivati vedete prima ci ho messo un secco ci ho messo tre minuti ma ci ho messo sieno quaranta secondi ad arrivare qui e anche una volta che lo sai come ho detto è più facile comunque dopo voglio vedere come si vede in hd perché io sto oh qua cos'è la selezione questa aspetta così voglio vedere come si vede perché ho fatto un video di 30 secondi giusto così per vedere com'era e devo dire che si vedeva bene tra l'altro ho visto che volendo adesso non prendetela come cosa però si può anche vedere qui qui devo fare questo giusto ok si può anche si può anche vedere posso stare sul pc mentre gioco solo che arriva un po' in ritardo il segnale di un secondo quindi sicuramente non posso farlo in questi giochi però adesso c'è bisogno di vedere perché questa è la selezione veloce non mi ricordo assolutamente i tassi ok se accolle a questo la vedo grigia forse a skyrim però non è neanche del tassi tanto se qui switcho su playstation o su pc in un secondo con il telecomando quindi è anche mezzo inutile comunque spariamo va non è che posso stare questa cosa come si chiuda qualcuno lo sa per favore perché io continuo ecco io mi faccio testare non ho capito come si schiva vorrei saperlo magari no questa è inutile che state lì a testarlo perché tanto perché questa non si può schivare almeno che io sappia è inutile che state state lì a pestarlo perché poi mi becca con la coda e quindi tanto vale che lo pestate così tanto mi togliete tanto guardate così continuate a fargliela vabbè lui mi ha tolto 5000 io ti ho tolto 6700 eh certo grazie schivi da prima ti fa la seconda allora non serve più a niente grazie simpatico schiva la eh perché non si era mossa lì oh anche perché non ho più altra vita quindi non ho alternative devo vincere devo vincere vediamo chi mi chiede di fare selezione selezione veloce fatta ora perfetto mi è andata bene se ne ero già crepato ora o c'è la selezione quadrupla o devo prendere chi se la ricorda vediamo cosa c'è questa è fatta oh sto andando avanti vediamo se riusciamo a fare ancora una volta siamo stanchi mi sa che ora gli faremo energetica no cosa fai una sfera gentiliana devo premere dimmi che devo premere che è meglio che se devo fare la selezione quadrupla cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai cosa fai intanto la scena è bellissima scherzi a parte è veramente bella cosa devo fare dai ok questa è fatta ho spinto la sua sfera e boom bella grande perfetto grandissimo grande mossa finale come l'artiglio di drago di di Goku ragazzi si passa in mezzo al drago ne sa un sacco qui abbiamo vinto il nostro personaggio è un eroe effettivamente ok vediamo se vediamo vediamo cosa succede cosa succede cosa succede si non c'è niente ah sembra che sia tornato come prima ti ringrazio ora esagerò il tuo desiderio vediamo cosa gli chiede beh mi sembra abbastanza ovvia come cosa gli chiede fai tornare il mondo come era prima e vediamo cosa gli risponde il drago perdonami non posso esaudire questo desiderio aiaiaiaiai ragazzi perché hai esaudito il desiderio di sopra i skin cosa ha causato tutto questo e lui gli dice potrei anche annullarlo no e invece non può perché lui non può fare qualcosa che è superiore ai suoi poteri eh già e quindi è troppo potente per lui non può tornare alla normalità allora l'unica cosa che può fare è andare a sconfiggere tutti i cattivi ragazzi uno alla volta e qui le sfere del drago erano la nostra ultima speranza aiaiaiaiai e quindi cosa si può fare ecco cosa significano le ultime parole di Super Ishinon e vediamo cosa sceglie di fare ma non è ancora finita è troppo tardi per salvare questo misero mondo erano le parole di Super Ishinon vediamo invece cosa dice il nostro supereroe che è un Super Saiyan tra le altre cose me la farò vedere io può riportare in vita la gente rimasta uccisa questo lo può fare tranquillamente vediamo eh visto è una ricorda semplice ma ricorda la terra rimarrà uguale e allora lui decide di distruggere completamente tutti i cattivi a mani nude quante quante tamarra questa cosa se non riesco a sistemare le cose con le stere del drago lo farò con le mie mani quante tamarro in questo personaggio va bene va bene allora qui ragazzi si conclude la nostra modalità eroe spero che questo video vi sia piaciuto che è in HD in full HD per essere precisi e insomma spero che tutta questa questa serie della modalità eroe vi sia piaciuta qui si conclude la nostra i nostri episodi si portano a conclusione e insomma se avete altre richieste fatele io intanto vi lascio vi consiglio di continuare a guardare la modalità storia insomma e tutti gli altri video e poi ci vediamo con i prossimi va bene basta direi che per oggi è tutto quindi un bel ragazzi e ai prossimi video ciao 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 Grazie a tutti.